Ciao da Italiano alle Canarie. Se hai un dubbio, un quesito sulle Canarie, sei nel posto giusto. Nella sezione dedicata alle domande frequenti nel mio blog, troverai risposte esaurienti su vari aspetti legati a questo splendido arcipelago. Ecco un'anteprima di ciò che troverai nella pagina Domande Frequenti. Documenti, NIE, Residenza. Scopri tutto ciò che devi sapere riguardo ai documenti necessari per la residenza alle Canarie. Pensioni, invalidità ed altro sull'argomento. Informazioni importanti sulle pensioni, l'invalidità e le prestazioni disponibili per i residenti alle Canarie. Analisi del costo della vita alle Canarie. Un'analisi dettagliata sui costi della vita nelle Canarie, fornendo una panoramica su spese quotidiane, alloggio e altre spese essenziali. Trovare lavoro alle Canarie. Consigli utili e indicazioni per chi cerca opportunità di occupazione nell'arcipelago, inclusi settori chiave e modalità per trovare lavoro. Aprire una società. Costi. Apertura di una società alle Canarie e informazioni sulle tasse e le aliquote fiscali vigenti. Casa alle Canarie, alloggio, prezzi, viaggio esplorativo. Consigli su come cercare alloggio, prezzi delle case e suggerimenti per un viaggio esplorativo alla ricerca della tua casa ideale. Concessione di un mutuo. Tutti gli aspetti relativi alla concessione di un mutuo in Spagna, varie tipologie ed altri aspetti. Sanità alle Canarie. Informazioni sul sistema sanitario, l'accesso alle cure mediche e aspetti relativi alla salute alle Canarie. Differenza. Tra. Isole. Servizi. Lavoro. Business. Spiegazione delle differenze. Tra le diverse isole dell'arcipelago, i servizi disponibili, le opportunità lavorative e l'ambiente per chi ha gli affari. Scuola alle Canarie. Dettagli sul sistema scolastico alle Canarie, le opzioni educative e i servizi offerti. Se hai domande che non compaiono nell'elenco o se desideri ulteriori dettagli su uno specifico argomento, non esitare a contattarmi. Sarà un piacere rispondere alle tue domande e aggiungerle alla pagina, per fornire informazioni sempre più complete e utili. Quindi se vuoi approfondire i vari argomenti, vai alla pagina delle domande e risposte. Il link lo trovi in descrizione. Grazie per la tua visita e buona lettura! Grazie per la tua visita! Grazie per la tua visita! Grazie per la tua visita!